ciao a tutti benvenuti a una nuova puntata di outcast weekly il podcast di outcast in cui parliamo della notizia del giorno della settimana o di quello che capita io sono stefano tararico con me c'è andrea peduzzi e insieme parliamo del nintendo direct dedicato a animal crossing new horizons che è il gioco di prossima uscita finalmente animal crossing arriverà su switch su una console su una console casalinga credo dall'epoca del game cube addirittura oddio ma sai che sono semi casalinga in effetti però beh io sono l'ultima esperienza che ho avuto con animal crossing per quanto mi riguarda era addirittura con il primo nintendo ds sì sì ci sta beh massimeira vabbè ma io non faccio fatica a ricordarmi cosa è uscito dove ma insomma io mi ricordo di aver giocato tantissimo nell'estate di della stovasca ovviamente e beh no ma perché in realtà ho speso un mese lontano da casa e avevo il ds il 3ds quello che era e che era l'unico mio mezzo per videogiocare e quindi poi è stato poi è bello essere spiaggiati da qualche parte che non si conosce per un mese e avere la quotidianità del di animal crossing che alla fine ti salva dalla pazzia sì sì no è molto molto carino anche anche perché poi anche perché poi animal crossing è un po quella roba lì che dopo un tot finisce che non sai più cosa fare devi prenderlo a piccole dosi quindi è anche abbastanza perfetto per i viaggi in metro tutte quelle cose noiose che non sai come passare altrimenti e quindi boh era stato un mese fantastico e anzi mi sono ripromesso una volta tornato di continuare a giocarci e questa promessa è durata due giorni più o meno come sempre e invece appunto questo nuovo animal crossing a parte che è bellissimo da vedere cioè è la cosa che ogni tanto mi perdevo in questo direct non guardano non seguivo quello che stavano dicendo perché è talmente bello da vedere che dicevo che bello che è cioè possono anche non farmi fare niente per una settimana e comunque sarà bellissimo io invece ti confesso che qualche giorno fa sullo slack relazionale si è parlato di animal crossing tra l'altro parlando di un'isola particolare stefano di un sì no il borgobio di ugo ascoltiamo il borgobio di ugo ma dammi un contesto di questa cosa dillo con l'enfasi con la quale pronunceresti una bestemmia e capirai automaticamente cosa si sta parlando sì sì no ho capito capito ma quindi era il il borgobio era solo era solo quella sì sì era solo la boutade della battuta bellissimo però è stato di fatto che in realtà ho sempre giocato malamente ad animal crossing tra l'altro attenzione io non ci giocai su game cube nel senso no quindi in effetti ora che ci penso la mia unica esperienza di animal crossing è probabilmente quella legata a nintendo ds oddio ma mai però però ce l'ho spalmato nella mia mente spalmato su una serie di sistemi oppure probabilmente ci ho giocato veramente a pezzi no forse la droga sì 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 no forse la droga vai a sapere comunque in effetti anch'io voglia di giocare un animal crossing finalmente in in alta definizione e tra l'altro con diciamo sono state spiegate in questo direct un po di quelle che saranno le variazioni rispetto al capito di partire in giro corretto sì sì beh diciamo che il punto di partenza che accomuna tutta la serie è che tom nook è un capitalista bastardo e deve morire perché è sempre lui che ci accoglierà su quest'isola tra l'altro ogni capitolo nuovo fa più soldi ed è più in alto nella catena nella catena evolutiva nella catena elementare di tutti gli altri quindi adesso c'è questa agenzia di viaggi in cui con cui spedisce la gente sull'isola per trovare salvezza probabilmente dal capitalismo e quindi è un circolo vizioso che si autoalimenta perché queste povere creature che poi saremmo noi cercano cercano tranquillità e un rifugio su un'isola deserta che innanzitutto dopo due secondi si si popola di altre bestie altri poveri cristi che vogliono sfuggire dall'ugorio della vita moderna e in più dopo due secondi arriva sempre il solito tom nook a dirti ah ma quindi non stai in casa tua vuoi una casa più grande dai vendimi il tuo primo genito e fai i debiti fino a quando non muori merda e quindi cioè è veramente così l'emblema è la vittoria del capitalismo l'ennesima vittoria del capitalismo invece ho avuto un lo sfizio di andare a controllare come mai avesse queste sensazioni di animal crossing giocati anche a casa in realtà era uscito per ui animal crossing land go to the city nel 2008 vedi che non mi ricordavo sì 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 è arrivato in europa nel 2008 sì sì no non mi non me loro proprio cioè è anche il primo gioco per ui che sfruttava la periperica we speak grande successo beh caspita perdibile e vabbè insomma è un altro capitolo nel capitalismo insomma e però vabbè bello con vabbè con in realtà un sacco di cose che ritornano in forme più o meno diverse tipo il fatto che ci sono le stagioni ogni stagione diversa perché ci sono attività frutti robe diverse fare le feste sì i tipi di insetti diversi sì sì no e questo quello è molto è sempre molto figo perché alla fine tutti i capitoli hanno cose del genere che succedono mano a mano che l'orologio reale avanza e le stagioni cambiano eccetera però poi vabbè ci sono anche in questo caso tutte le diversità legate al fatto che sei su un'isola deserta per cui arrivi con questo aereo che ti porta lì e anche tutti tutti i viaggi i viaggi vacanza chiamiamoli che fai nelle altre isole esotiche e che ti fanno che ti danno accesso alla frutta diversa da quella che solitamente cresce naturalmente sulla tua sulla tua isola nella tua città che tra l'altro anche quello mi immagino che tornerà di gran carriera perché di solito nelle città di animal crossing cresce un solo tipo di frutta e il modo per avere accesso ad altra frutta sono o le città dei tuoi amici che vai a visitare online o con i sistemi vari di link delle varie console oppure forse che finora non sono mai stati così spettacolari per certi versi beh sì gli ultimi DS potevi fare qualcosa in più perché comunque vabbè c'era già un po' di banda larga in giro per il mondo ma non in giappone ma non per l'intendo no esatto esatto vabbè ma anche qua hanno detto che bisogna passare attraverso la fantastica app dell'online per i telefoni c'è una roba che quando la spiegavano tra l'altro mi è tornato in mente che effettivamente esiste un'applicazione per gli smartphone dell'online di nintendo questa cosa mi fa caponare la pelle anche se in realtà è figa perché puoi trasportare dai vecchi giochi del DS e del 3DS i cartamodelli quelli per fare i pattern dei vestiti o delle carte da parati o dei tappeti che è una cosa molto fina che però saranno importate probabilmente in bassa risoluzione beh ma no ma perché sono in realtà erano modelli cioè erano fammi dire patchwork nel senso che loro ti davano comunque dei quadratini è pixel art alla fine cioè non è in realtà la bassa risoluzione che te frega è irrelevante si fa in effetti basta che si espande la texture e la si ripicolisce sì no la fai diciamo che la fai in scala e dovrebbe venire una roba che vedi decentemente che tra l'altro vabbè è ottimo perché appunto fare quelle robe lì tutte le volte ogni gioco magari hai un disegno che fai una volta due volte tre volte magari ti rompi anche le scatole e certo come contrapasso devi avere anche il vecchio DS il vecchio 3DS e il vecchio la chia cartuccia del gioco che non è non è forse non è forse il caso di tutti e di sicuro non è il mio caso però io mi sa che ho venduto tutto come come una bestia per comprare la droga tra l'altro per comprare la droga quella vera ma perché dopo un po' animal crossing ti mette proprio veramente in una condizione di dipendenza tra l'altro cioè come dicevi prima il sistema alla base di animal crossing è un sistema distorto capitalista e brutale eppure eppure ti convince comunque sempre a fare cose che non servono e non so sempre avuto un rapporto cioè è molto carino a vedere il fatto che siano tutti animali pucciosi e che tutto sommato sono molto perché poi anche tom nook è vero che è un bastardo capitalista la peggio stregua di come si chiama quello di amazon jeff bezos però è anche vero che a differenza di tutti i tuoi creditori nella vita reale è molto tranquillo con la restituzione dei soldi per cui tu gli puoi dare 5 euro ogni 6 anni lui non è che ti viene ti manda i pizzatori però in realtà guarda che tom nook in realtà ti ruba l'anima ti ruba l'anima ai giocatori come se fosse satana tra l'altro sono finito su un thread di reddit che ne sta parlando comunque ci sono tutte le analogie tom nook è satana effettivamente ha perfettamente senso beh ma c'era nel corso della storia sono uscite tante storie terrificanti creepypasta e cose assortite assolutamente sul mondo di animal crossing ma infatti è la cosa più che si presta di più diciamo a questo tipo di cose dopo i pokemon anzi più dei pokemon perché se dai pokemon hai comunque gli esperimenti bizzarri da fare con i pokemon in tutta una dietrologia nazista legata ai pokemon animal crossing di contro è veramente demoniaco mi stai dicendo che pikachu è un super uomo di hitler allora secondo me beh a parte che era uscita questa cosa ho letto un articolo molto interessante un po' di tempo fa ora non riesco a citarlo con padronanza perché l'ho letto veramente però c'era stato praticamente un inserimento in un pokemon che buon pare pare ci fosse stata una traccia di esperimenti che facevano nei campi di concentramento giapponesi urca ma non sto scherzando cioè comunque robe adesso non so se sui cinesi o non entro veramente nello spettifico perché rischio di dire stupidaggine però vale la pena cercarlo perché è un articolo che magari trovate ancora online anzi fatemelo cercare pokemon tu sei veramente stai portando oltre il livello di cancellate la mia cronologia quando sarò morto no però è una cosa comunque no certo per la scienza diciamo sì 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 no rimaniamo un attimo campi di concentramento pokemon no perché mi piacerebbe veramente cercare la roba perché era un articolo veramente inquietante che di fatto attraverso pokemon metteva in luce cioè parlava di esperimenti trattati dal governo giapponese durante la seconda guerra mondiale su prigionieri di guerra che il governo stesso tende a dimenticare pare che non so per quale motivo gli sviluppatori li avessero voluti mettere all'interno di pokemon di un pokemon uno dei primi per game boy ma si ma tu dici la città quella la città dove tutti i pokemon sono morti non solo cioè non so se era solamente questa niente no non riesco a trovarlo è un peccato non citarlo però vale la pena vabbè sta di fatto che insomma secondo me tornando a tonnook e tornando a animal crossing secondo me siamo dalle parti del della simulazione del concetto di isola di lost e non nel senso che tutti sono morti perché non è questo il finale di lost e chi lo pensa non ha capito però in generale secondo me il mondo di quel mondo lì è esattamente una roba del genere ed è anche il modo distorto con cui si interfaccia con la realtà per esempio io quando gioco a questo tipo di giochi quando giocavo a animal crossing ricordo che diventavo così ossessivo compulsivo che a un certo punto io non riuscivo a riposare andare a letto la sera sereno se non avevo anche diciamo eseguito le stesse mansioni con il mio personaggio beh ma sì ma è una forma di è comunque una forma di no beh ma comunque è un gioco che spinge sull'automazione nel senso che comunque l'unica cosa cioè l'unica cosa o meglio se ci giochi tutti i giorni alla fine devi fare quelle due o tre cose ossessivamente e sono quelle le uniche cose che effettivamente cambiano di giorno in giorno nel senso tutte le mattine ti alzi e sai che devi andare a vedere cosa ti vende Tom Nook perché ogni giorno ti vende una cosa di diverso ogni giorno devi strappare l'erbaccio perché sennò la tua città va in malora e ogni giorno devi scavare devi disotterrare tre fossili e basta cioè in mezz'ora hai finito se non hai se non hai un obiettivo da fare e fondamentalmente però di fatto diventa una task che devi inserire nella tua giornata no no certo ma diciamo che diciamo che infatti per quella che è la mia esperienza di solito il mio gioco con Animal Crossing arrivava fino al momento in cui non pagavo tipo il secondo cioè non arrivavo a chiedere il secondo mutuo per cui avevo la casa abbastanza grande e però cioè arrivare a pagare pure quello facendo quelle quattro cazzatine tutti i giorni ogni giorno per mezz'ora è vero che era poco tempo e non era e non era poi tedioso fondamentalmente perché comunque appunto è una roba super leggera però boh sì una certa anche basta poi metti che un giorno non ce la fai metti che il giorno dopo c'hai da studiare metti che il giorno dopo c'hai da lavorare metti che il giorno prima c'hai un aperitivo e il giorno se ti dimentichi tre giorni di fila poi il quarto non è che ti metti lì e recuperi anche perché poi veramente il tuo villaggio è andato in malora ed è un cesso a pedali e quindi veramente diventa un lavoro io non lo compro più ho deciso no veramente perché è una cosa di terror che fa male sono questi i videogiochi che rovinano le persone mi dissocio automatismi e robe di questo tipo è un po' quello cioè nel senso il meccanismo ludico di Animal Crossing è quello alla fine cioè trova le attività per pagare il mutuo perché l'unico cioè o comunque vabbè non so in realtà con questo con questo direct soprattutto ho avuto l'impressione che abbiano spinto molto più rispetto al passato sul sul crafting in un in una direzione che va verso un po' il Minecraft comunque verso tutti i giochi in cui il crafting è una componente abbastanza fondamentale che mi ha fatto un po' strano perché questa cosa non è che ci fosse cioè che fosse così marcata nei vecchi nei precedenti Animal Crossing poi non so è anche una delle cose che nel complesso mi sta un po' più sulle palle sì infatti cioè anche io anche io non sono anche io non sono un grande fan però vabbè in realtà penso a gente in realtà il diagramma di van di persone a cui piace tantissimo Minecraft piace tantissimo il crafting piace tantissimo Animal Crossing sono due diagrammi che tendono a incontrarsi abbastanza facilmente quindi ci sta è una scelta anche abbastanza condivisibile se la guardi in maniera distaccata a me quella roba lì non dice granché cioè per certi versi sono preferisco giocarci fino a quando non mi annoio ma il fatto che la componente per tenermi ancorato sia proprio questa è stata proprio quella vabbè però ecco in realtà secondo me eh no certo dipende anche come la come la implemento io parto sempre chieto dicendo ma sì lo gioco sereno me ne sbatto le palle è una cosa così che faccio la sera e tutto quanto poi so già che avrò la fase di picco in cui disfenterò ossessivo compulsivo dopodiché avrò il rigetto sì 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 beh ma è tipo le tre fasi del lutto è lo mio classico arco di utenza diciamo di questa cosa le tre fasi di Animal Crossing tra parentesi sì tutto quello svarione sul sul capitalismo sui Pokémon nazisti eccetera mi ha fatto anche tornare in mente che alla fine Animal Crossing è un po' la teoria della simulazione del fatto che viviamo in una simulazione c'è gente più grande di noi che vive che l'universo è la simulazione di un dio e tutte queste robe qua che però quel dio è il diavolo è Tom Nook è Tom Nook esatto è affascinante pensa se un giorno cioè che poi pensa magari noi non stiamo dopo un po' ci annoiamo di Animal Crossing e smettiamo di giocarci ma pensa se continuassimo a giocare e alla fine di Animal Crossing si scopre che effettivamente arrivi dentro alla simulazione anzi esci dalla simulazione e ti liberi dalle catene dell'imperialismo del comunismo cioè del comunismo no ma del capitalismo ormai non è ormai le parole non hanno più senso in questo posto no secondo me invece se arrivi alla fine di cioè se Animal Crossing dovesse comunque a un certo più dove secondo me alla fine svela qualcosa tipo loggia nera cioè perché è anche quello il un po' il senso del gioco era come era come il gioco di Molinò in cui dovevi scavare nel cubo e alla fine del cubo c'era tipo Molinò coperto d'oro che ti regalava i buoni per McDonald's no 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 me lo sono perso come possibile era no no ti regalava i buoni per McDonald's ti regalava ti regalava che tipo diventavi un game designer nella sua azienda che dopo due settimane è fallita sì sì e comunque non ti pagava diventavi lo stagista per Molinò no beh certo il suo primo gioco era un free to play per telefoni in cui dovevi schiacciare un cubo lo so anch'io che non ti pagava che cazzo di modello di business è vedi se Molinò avesse giocato ad Animal Crossing saprebbe come fare due soldi probabilmente ma va ma Molinò con la differenza che Tom Nook che Molinò non è carino come Tom Nook è tutto sommato perché Tom Nook c'è anche questa cosa che è carino cioè non puoi dirgli di no se ti chiede dei soldi anche perché poi in realtà io non lo sopporto non l'ho mai sopportato ma è però è passivo aggressivo perché lui non è che ti chiede i soldi lui vuole i tuoi soldi ma non te li chiede confida sul tuo senso di colpa perché tu sai che lui ti ha prestato un sacco di soldi e quindi ti senti anche un po' stronza a non ridargli e lui gioca su questa cosa e giocando su questa cosa di milioni di persone ha costruito un impero e adesso ti vende i viaggi sull'isola deserta per scappare dal capitalismo che lui stesso ha costruito che lui stesso ha costruito e infatti poi quando tu arrivi sull'isola deserta c'è lui che ti vende delle cose cioè pensa un po' pensa un po' che si no è una cosa è una cosa che andrebbe scoraggiata eppure eppure credo che la compreremo tutti perché siamo no beh certo perché siamo delle persone ma perché perché la nostra vita parliamoci chiaro viviamo in questi in queste fredde case operaie in questi esatto in questi soborghi in questo in questo per cui in realtà l'idea di chiudersi nel mondo di Animal Crossing è anche una scelta di escapismo cioè dove di fatto puoi fare le stesse cose senza il rischio concreto di morire di fame anche se in realtà c'è stato quel momento terrificante in cui l'omino di Animal Crossing andava in giro faceva cadere un vespaio le vespe l'hanno punto e lui è morto invece di pungerlo all'occhio come succede di solito cioè in una sequenza l'hanno punto all'occhio e vabbè in un'altra è caduto per terra e c'è stata una transizione a nero terrificante che mi sono sentito raggelare il sangue a me credo che non sia mai successo no ma infatti è una novità di questo nuovo capitolo infatti ora voglio infatti ora probabilmente metà della gente che è a quel punto dove finisci se muori in Animal Crossing esatto infatti metà finisci in un'altra isola dove premere un tasto ogni 108 minuti no no sì infatti secondo me metà della gente che ha visto questo direct comprerà il gioco solo per farsi pungere e morire e scoprire cosa c'è oltre la puntura probabilmente c'è un tomb nook nazista che ti vende la cura per Matrix non lo so sì potrebbe essere tranquillamente come dicevo prima questo podcast sta tracimando va ragazzi nel senso non possiamo fare del resto un podcast su un direct durato quanto 20-25 minuti no infatti l'abbiamo già ampiamente superato e abbiamo detto anche cose non più interessanti perché non abbiamo niente da mostrare però no ma probabilmente abbiamo anche già fatto la recensione in realtà sì 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 abbiamo già detto tutto quello che c'era da dire lo abbiamo già giocato sì 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 lo abbiamo già giocato già giocato perché Animal Crossing è dentro di noi esatto in realtà Tom Nook siamo noi Animal Crossing è qua dentro nella nostra testa esatto esatto eh vabbè vabbè niente dai io direi che 25 minuti di cazzate infinite possono anche soddisfare la sete dei nostri ascoltatori e quindi possiamo ascoltare sì sì i nostri ascoltatori che probabilmente vivono in queste in questi soborghi in queste case operarie sì ma in questo mi immagino com'è l'ascoltatore meglio di Outcast cioè che è come l'autore di Outcast quindi è è un autore di Outcast che ce l'ha fatta probabilmente sì è un autore di Outcast che ce l'ha fatta però vive comunque condivide non so questa in questi scenari alla Deakins in queste case con la nebbia col fumo con i padroni di casa che che bussano dammi i soldi e dentro però tu sei e allora tu hai detto che se hanno la nebbia dentro casa non gli è andata benissimo no no però è l'unico podo perché però fuori è peggio fuori è ancora più freddo fuori è brutto è l'unica cosa che hanno anche per per non sentire il freddo per è giocare ad Animal Crossing pensavo è la nostra calda voce no 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 la nostra calda voce li deprime ancora di più cioè perché stiamo ricordando effettivamente quanto è triste la loro resistenza triste come la nostra adesso spegniamo questo computer e rimaniamo e piangiamo 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 nell'attesa di Animal Crossing esatto perché ci salverà da questa vita miserabile per cui e finirà che moriremo di inedia però giocando ad Animal Crossing abbiamo detto veramente troppe cazzate quindi io la chiuderei qui chiudiamo ciao e grazie ciao e grazie ciao 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 Grazie per la visione!